Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da Pescara. 11 giovani indagati dalla Procura Adriatica per furti, borseggi e assunzione di sostanze stupefacenti. La gang scominata dalla squadra mobile della Questura di Pescara aveva fatto anche commettere un furto ad un bambino di appena tre anni. Ci dice tutto nel servizio Paolo Renzetti. Sono accusati a vario titolo di una serie di furti commessi in danno di esercizi commerciali e di abitazioni, nonché di borseggi, truffe online e atti vandalici. Per questi reati all'alba di oggi, gli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara hanno eseguito una misura cautelare e restrittiva nei confronti di 11 giovani componenti. Di una terribile gang protagonista di alcuni episodi criminosi accaduti in città nei mesi scorsi, i giovani erano soliti agire sotto l'effetto di stupefacenti per darsi coraggio e riprendere le loro imprese criminali con l'uso di smartphone. In totale sono stati 11 giovani indagati, tra cui un minore, uno dei quali è finito in carcere, mentre per altri due sono stati disposti gli obblighi di dimora. Ci ha colpito il fatto che procuravano danni ingenti per conseguire poi dei profitti a volte irrisori. In altri casi c'erano dei comportamenti non spiegabili, irrazionali, degli atti di vandalismo che non avevano una motivazione. Poi le intercettazioni ci hanno spiegato il perché di questi atteggiamenti, perché questi ragazzi erano soliti drogarsi prima di colpire e lo facevano proprio per darsi coraggio. Però questo li rendeva anche più pericolosi perché non erano pienamente consapevoli evidentemente di quello che facevano. La banda nasce per strada da contatti occasionali, rapporti di amicizia, di conoscenza, di frequentazione che poi vengono cementati e si aggregano sul tema comune della droga e della delinquenza di strada. Quel video mostra un padre che incida suo figlio a commettere un reato e poi lo premia. Non è il valore in sé del pacchetto di patatine ma è il disvalore, quello sì elevatissimo del gesto. Noi abbiamo inoltrato una segnalazione al tribunale per i minorenni e speriamo che quanto prima ci sia una giusta valutazione anche sulla capacità genitoriale nell'ambito di questo nucleo familiare. Ed ora avvasto una violenta deflagrazione. Questa mattina attorno alle 5 ha fatto collassare una struttura usata come pertinenza di una abitazione in via Maddalena al civico 53 a causare il crollo, l'esplosione di una delle due bombole utilizzate nella cucina. Non ci sono stati fortunatamente feriti mentre hanno riportato danni un furgone parzialmente andato a fuoco e un'autovettura sulla quale è finita una porta dell'edificio e alle vicine abitazioni. Tanto spavento e i primi a pestare soccorso sono stati i vicini di casa. Sono intervenuti ovviamente i vigili del fuoco che hanno transennato e delimitato la zona. Al momento non ci risultano essere persone coinvolte, dice il vicequestore Alessandro Di Blasio, dirigente del locale commissariato, dopo aver parlato con il titolare dell'abitazione. Però bisogna indagare per capire come sia stato possibile che la bombola sia esplosa. Andiamo avanti. Sequestro di attrezzature telematiche all'interno di tre sale scommesse del Terramano, operazione odierna della Guardia di Finanza di Teramo, i tre centri di scommesse erano collegati a bookmaker esteri non autorizzati. Elisa Leuzzo. Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa. Questa l'ipotesi di reato contestato a quattro gestori di tre diverse sale scommesse situate nel territorio terramano. Una operazione della Guardia di Finanza di Teramo che questa mattina ha portato al sequestro di attrezzature tecniche presenti all'interno degli esercizi pubblici. Nello specifico la sala scommessa è denominata Aleabet Sita Imbellante alla Via Nazionale. Stessa insegna per quella di San Nicolò a Tordino in via Cristoforo Colombo ed infine la Bet 1128 Sita Teramo Centro in via Lebovio. Dall'attività svolta dagli agenti della Guardia di Finanza è emerso che le tre sale esercitavano abusivamente la loro attività di raccolta e gestione telematica di scommesse a favore di un bookmaker straniero senza essere in possesso dei requisiti normativamente prescritti senza licenza di polizia e della concessione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le tre sale scommesse esercitavano per conto della Phonix International LTD, società con sede a Malta sprovvista di concessione governativa e di licenza, già nota le cronache, in seguito ad altre attività dedicate al contrasto dell'illecito collegato al gioco d'azzardo. Sotto sequestro sono finite tutte le apparecchiature tecniche, pc, maxi schermi, stampanti, terminali per la concessione telematica, modem e ricevute di scommesse. Indagati per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco quattro soggetti italiani, tutti terramani. I provvedimenti di sequestro sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Teramo su istanza del Pubblico Ministero. E andiamo avanti con la pagina di cronaca. Torniamo a Vasto. Sequestrati 321.000 fuochi pirotecnici per un peso complessivo di 315 kg e 3 milioni di palloncini gonfiabili, oltre alla denuncia di 5 persone alle autorità giudiziarie vastesi di Lanciano e di Avezzano. Questo è il risultato dell'attività di indagine che a seguito di un controllo ad un'autovettura sulla statale 650 Fondo Valle Trignina da parte della Guardia di Finanza di Vasto, ha permesso di risalire a prodotti commercializzati nel periodo natalizio. Il materiale pirotecnico veniva venduto in un esercizio commerciale situato nell'Alto Vastese, mentre nella Marsica era stata attivata una fabbrica di produzione di palloncini gonfiabili senza il marchio CE, quello comunitario, che costituiscono un potenziale elemento di danno per la salute del consumatore, in particolare dei bambini. Tutta la merce sequestrata ha un valore di circa 3 milioni e mezzo di euro. Adesso all'Aquila ci sono stati due morti. Il primo è un 35enne di Paganica che ha ingerito dell'acido ed è morto poi per le conseguenze all'ospedale dell'Aquila. La seconda è un'anziana colpita ieri da un malore mentre era alla guida della sua autovettura. Daniela Rosone. Non ce l'ha fatta il 35enne di Paganica, popolosa frazione dell'Aquila, che ieri è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dopo aver ingerito acido muriatico. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva delle difficoltà lavorative. In base a quanto accertato dagli agenti della squadra volante della questura, coordinati dal dirigente Nicola Di Pasquale, l'ingestione dell'acido sarebbe avvenuta a ora di pranzo, dinanzi alla compagna che da poco era rientrata in casa. Un collega, inoltre, sarebbe stato avvertito in precedenza con un messaggio. A soccorrerelo sono stati, intorno alle 14, i sanitari del 118, ma l'uomo, dove il ricovero, è morto. Il 35enne era arrivato nella struttura sanitaria cosciente, anche se in condizioni non buone. Una donna di 82 anni, invece, è deceduta ieri notte per un infarto mentre era alla guida della sua automobile nei pressi della questura dell'Aquila. L'anziana era appena uscita da un centro ricreativo nella zona del Torrione, vicino alla questura, e sentendosi poco bene alla guida, ha fermato il mezzo nei pressi della questura aquilana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante, coordinati dal dottor Di Pasquale, che hanno allertato subito il 118, ma all'arrivo dei sanitari la donna era già deceduta. Ed è stato domato l'incendio che si era sviluppato l'altro ieri a Bolognano, nella zona del fiume Orta. Sul posto, per un giorno e mezzo, hanno lavorato senza sosta il personale del corpo forestale dello Stato e della protezione civile, a bruciare in un'area di circa un ettaro, bosco e pineta, ma a rischio, secondo le stime della forestale, erano circa 100 ettari di zona di parco a tutela integrale. Ovviamente piuttosto complesse le operazioni di spendimento a causa della zona impervia, caratterizzata dalla presenza di gole e da dislivelli di 200 metri. Le fiamme, infatti, si sono sviluppate in verticale, rendendo estremamente difficile il lavoro di forestale e protezione civile. E adesso torniamo all'Aquila, dove questa mattina c'è stata la visita della stampa al cantiere del palazzo dell'emiciclo, del palazzo dell'ex Gil Maschile, il presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio, il vicepresidente Lucrezio Paolini, assieme ai responsabili della ditta appaltatrice e i progettisti, hanno illustrato i lavori all'interno del cantiere e risposto alle domande dei giornalisti. Lavori per un importo pari a oltre 8 milioni e 800 mila euro, un intervento che riguarda 6 mila metri quadri e che vedrà la riconsegna dei lavori nel 2017. Andiamo avanti ancora con le notizie che arrivano dalla Regione, perché entra nel confronto pubblico la problematica del metanodotto Larino Chieti. Il Comitato di coordinamento regionale del Via ha infatti indetto per lunedì 18 gennaio alle 9.30 presso l'auditorium di Palazzo Silone all'Aquila una inchiesta pubblica nel rispetto delle competenze fissate dal decreto legislativo 152 del 2006. A Pescara i dati delle centraline dell'Arta confermano che con le targhe alterne sta migliorando la qualità dell'aria che si respira in città. Ovviamente una mano ha dato anche il tempo e il vento che ha aspirato sul capoluogo adriatico in questi giorni e con già in arrivo ci si attende un ulteriore miglioramento della qualità dell'aria e dell'inquinamento. Sentiamo. Nel vecchio i numeri dicono che con le targhe alterne la qualità dell'aria a Pescara migliora. Tra l'altro con l'arrivo del maltempo, con la pioggia soprattutto, la situazione potrebbe ancora migliorare. È così? Ma è l'auspicio. Certo il Sindaco quando ha adottato la misura delle targhe alterne per la tutela della salute pubblica l'ha fatta ragionveduta e anche avendo preso contezza di chi qualche parere tecnico scientifico era in grado di poterglielo sottoporre. E i dati danno ragione. Voglio un po' ricordare a tutti coloro che hanno parlato di che il provvedimento non avrebbe dato efficacia facendo riferimento alle precedenti esperienze. Che nelle precedenti esperienze, sempre delle targhe alterne, ci si era limitati a una piccola area della città di Pescara. Di conseguenza i risultati erano certo allora noti. Oggi che invece il Sindaco ha assunto un'iniziativa forte, sia sotto l'aspetto soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'aria e quindi la tutela della salute pubblica, dall'altra quella di limitare su tutto il territorio il traffico veicolare. Il risultato dà ragione al Sindaco senza compra di dubbio. Noi ci auguriamo che l'inverno, quello che spazza via le ulteriori polveri, però teniamo conto che in inverno la neve non sempre spazza via o quel tipo di maltempo non spazza via le polveri. Sono convinto che il Sindaco, all'esito di queste e di altre, vediamo quale è il tempo che vorrà mantenere il provvedimento, potrà consegnare alla città un periodo veramente di salubrità dell'aria e anche, perché no, insomma, anche una visione nuova della città che in molti, voglio dirlo, in molti hanno comunque apprezzato. Restiamo al Comune di Pescara. I consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedono che la mozione presentata in Consiglio Comunale che riguarda Pescara Porto, considerando l'opera ricadente in zona dove si potrebbero creare problematiche di pubblica incolumità, venga valutata e approvata e andiamo ad ascoltare insieme il servizio. Enrico Alessandrini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, voi avete presentato una mozione qualche giorno fa riguardo i lavori di Pescara Porto. Ora dite che questa mozione è rimasta nel cassetto del Sindaco. Cosa chiedete in particolare? Lo scorso 16 dicembre abbiamo portato in Consiglio ed è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiedeva appunto al Sindaco di valutare la sospensione del permesso di costruire della Pescara Porto per motivi che riguardano la pubblica incolumità, per il fatto appunto che quelle sono aree che la Regione ha sottoposto a rischio di esondazione molto elevato. Questo documento approvato all'unanimità dal Consiglio, ripeto, è rimasto appunto in un cassetto per circa un mese perché soltanto ieri la Presidenza del Consiglio lo ha inviato alla Segreteria del Sindaco. Nel frattempo abbiamo visto appunto che i lavori della Pescara Porto sono iniziati, quindi ci chiediamo per quale motivo si è aspettato un mese per mandare una mail alla Segreteria piuttosto che appunto fare le necessarie valutazioni. Voi cosa chiedete in particolare? Noi chiediamo appunto che siccome grazie a questo provvedimento regionale nelle aree a rischio di esondazione molto elevate il Comune ha dovuto bloccare tutta l'esecuzione dei lavori edilizie ed urbanistici, chiediamo semplicemente che la Pescara Porto sia trattata nello stesso modo in cui vengono trattati tutti gli altri. NCD scende in campo per salvare l'istituzione assistenziale di Giulianova, piccola opera carita, sale prese con problemi di fondi. I lavoratori sono senza stipendi e oggi se ne è parlato a Pescara e ne ha parlato il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio. D'Ignazio si parla della piccola opera caritas di Giulianova, del rischio chiusura di questa importante istituzione. La politica scende in campo, NCD scende in campo per cercare di salvare proprio la piccola opera caritas. Sì, credo che sia dovere di ogni politico prima di tutto tutelare i lavoratori che sono tanti e che fra le altre cose stanno portando avanti questo lavoro senza stipendio e ben oltre il loro dovere, fanno con il cuore e anche per i malati, per i malati, per coloro che sono ospiti della struttura, per i genitori delle famiglie che sono molte volte anziani e che vivono col terrore che quella postura possa chiudere e quindi ritrovarsi poi a non sapere che fare, come gestire i propri malati che sono all'interno della struttura. Quindi assolutamente va presa in mano questa situazione, va gestita. Devo dire che comunque il manager della ASL di Teramo tanto ha fatto per almeno per l'annualità 2015, le cose stanno andando bene, è il pregresso che purtroppo non si riesce a gestire e soprattutto non la retta, il costo della retta va adeguata, quindi credo che se non riusciamo a risolvere questo problema purtroppo la situazione diventerà tragica. Fra altre cose anche i dipendenti bisognerà far capire le intenzioni perché c'è il rischio magari che da una situazione così poi non se ne esca fuori e queste persone continueranno anche a perdere tempo e non trovare una diversa distinzione. Io credo che è assolutamente importante di tutti coloro che hanno a cuore questa situazione di combattere affinché si possa risolvere il problema. Gli ATC e le associazioni venatorie di Teramo, L'Aquila e Chieti si scagliano contro l'assessore regionale Dino Pepe e l'ufficio caccia regionale per aver ristretto il periodo della caccia alla beccaccia. Oggi una conferenza stampa per chiedere spiegazioni all'assessore Dino Pepe per quanto riguarda il calendario venatorio e a chiedere spiegazioni è l'ATC e le associazioni venatorie. Anche quest'anno siamo stati penalizzati, siamo stati penalizzati dalla politica e dall'ufficio tecnico regionale perché ingiustamente, ribadiamo ingiustamente perché hanno fatto delle istruttorie dopo sette mesi e mezza delle nostre pratiche che giacevano nei cassetti della regione già da maggio, solo il 7 di gennaio si sono ricordati che dovevano istruire le pratiche, le abbiamo integrate perché ci hanno chiesto un'integrazione in merito alla percentuale censita, abbiamo dimostrato di aver superato quella percentuale prevista minima nel protocollo d'inteso dell'ISPRA, dopodiché si sono inventate un'ulteriore cosa, ossia che mancavano le cartografie nelle relazioni, cose non vere perché le nostre cartografie erano allegate alle relazioni già dal 28 maggio, ancora di più se si considera quelle nostre di Teramo, quelle dell'Aquila che avevano le stesse cartografie dell'anno scorso che hanno avuto parere favorevoli, pertanto questo comportamento ingiustificato della regione non è più sopportabile in Abruz e quindi a questo punto abbiamo diffidato la regione e procederemo a fare tutti gli atti affinché possiamo tutelare il nostro mondo venatori che rappresentiamo. Intanto il 20 gennaio è prossimo, i 10 giorni disponibili per la caccia alla beccaccia salteranno? Sicuramente, ormai siamo su questa strada e quindi bisogna ammettere che il gioco preordinato dai dirigenti e dagli addetti tecnici dell'ufficio caccia regionale è riuscito, per cui con questo atteggiamento vessatorio nei confronti dei cacciatori, nei confronti di un'azione prevista dalla legge che è consentibile poter attuare, questi signori che ogni anno inventano qualche cosa di nuovo, pure quest'anno stanno riuscendo nel loro obiettivo. Torniamo all'Aquila, giudicati in via provvisoria i lavori per realizzare l'impianto di videosorveglianza del nuovo stadio dell'Acqua Santa. L'appalto per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del nuovo stadio di Acqua Santa è stato giudicato in via provvisoria dalla ditta Sicce SRL di Agrigento, che ha preceduto nella graduatoria la Marone SRL, la Strikig SRL e la Michele Di Cola. Le buste sono state aperte martedì pomeriggio, in questo modo l'amministrazione comunale ha terminato la procedura di negoziazione per affidare questi lavori, che rappresentano un passaggio molto importante e atteso per il completamento del nuovo stadio, che ha subito ritardi eccessivi, provocando il malumore dei tifosi rosso-blu che lo attendono ormai da anni. Affidamento provvisorio perché tutte le carte ora andranno al settore ricostruzione pubblica, che dovrà ovviamente fare le opportune verifiche richieste dalla legge, vale a dire Durca, Antimafia e tutte le altre procedure richieste. Una fase che precede il passaggio dell'aggiudicazione definitiva, con i 30 giorni nei quali altre aziende concorrenti potranno fare eventuali e possibili ricorsi. L'importo a base d'asta era di 299.557 euro. I tempi di realizzazione sono stati fissati invece in 28 giorni. L'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri, ha dichiarato che verranno montate circa 100 telecamere, posizionate sia negli spazi interni che in quelli perimetrali, comprese le aree di accesso e i parcheggi. Capri ha promesso che l'impegno sarà continuo, affinché quest'opera sia fruibile nel più breve tempo possibile. Torniamo in provincia di Teramo, torna a Cermignano per la 23esima edizione dell'Ussant D'Antonio, tre giorni di festa laica a partire da domani, 15 di gennaio. Cermignano dedica tre giorni a uno dei santi più amati d'Abruzzo. Qual è il programma? Il programma è l'Ussant D'Antonio, detto in termini dialettari nostri, ed è una manifestazione laica. Nel senso che la tipica festa religiosa legata al culto di un santo, nel nostro caso di Sant'Antonio Abbate, che è il proiettore degli animali domestici, come tutti sanno, ma è invece una rassegna dei canti di questo legati al culto di Sant'Antonio Abbate. Quali saranno gli eventi in programma in queste tre giorni? In tre giorni c'è in pratica un turnover su circa otto gruppi di canto e invece un gruppo di recite che viene da Chirino, perché classicamente da Chirino di Sant'Antonio venne recitato e non tanto cantato come invece è tipico di tutto il terramano. Quindi da venerdì a domenica, a partire dalle ore 18, il borgo di Cermignano si popolerà? Certamente, si popolerà e si illumina. Abbiamo anche, logicamente, degli ottimi prodotti che sono dei prodotti naturali, noi escludiamo qualsiasi cosa che non sia tipica del posto e poi offriamo a tutti quelli che vengono i nostri famosi uccelletti. Siamo il paese degli uccelletti perché da noi in tutte le case si fanno gli uccelletti e pensare che è tipico proprio di Cermignano perché appena Sant'Andrea a tre chilometri non fa gli uccelletti, Cellino a quattro non li fa. Quindi bisogna vederli, gustarli perché sono dei veri ricami che le nostre donne sanno fare con molta perizia. Ed ora la pagina dello sport calcio di Serie B in primo piano. Andiamo a vedere insieme le designazioni arbitrali per la prima giornata di ritorno del campionato cadetto in programma sabato 16 gennaio alle 15. In particolare vediamo gli arbitri delle abruzzesi. Lanciano Provercelli sarà diretta da Marini di Roma 1 con Tolfo e Rocca assistenti, mentre Pescara Livorno è stata affidata a Serra di Torino, Bindoni e Muto. i suoi assistenti. E parliamo proprio del Pescara, Biancazzurri al lavoro per preparare la gara interna, disponibile Campagnaro dopo qualche problema fisico. A centrocampo non ci sarà Memusha, intanto la società è vicina al difensore argentino del Carpi Spolli e noi andiamo ad ascoltare invece Fiorillo. È stato un bellissimo anno, cerchiamo adesso di guardare avanti perché sono sicuro che se si incastrano tutte le componenti può essere ancora più bello dello scorso. È una società che mi ha dimostrato di credere in me e io ho voluto, anche se non è una cosa scontatissima nel calcio, ripagare una società che magari mi ha preso in un momento un po' meno. È una riconoscenza. Poi ho legato tantissimo con il mio preparatore dei portieri Max Marini e questo mi ha spinto a dare continuità più che altro al percorso. Si è creato questo gruppo ma più che per i valori umani, al di là dei ruoli. In campo ognuno dà il massimo, spera di giocare. Abbiamo costruito questo rapporto, è nata questa amicizia poco dopo che sono arrivato. Simone oltre a essere un fortissimo portiere è una persona che io stimo tanto come ragazzo, divertente, simpatico, quindi abbiamo legato. Devo dire che siamo due ragazzi intelligenti, quindi al di là della rivalità in campo finisce poi lì e durante la partita uno sostiene l'altro e del contento delle parate dell'altro. Ed ora in poi che sarà comunque un altro campionato dove noi dobbiamo riprendere da dove abbiamo finito. Vogliamo sempre di più trascinare l'ambiente dalla nostra parte che sappiamo che quando poi il pubblico riconosce nella squadra certi atteggiamenti questa piazza può diventare un dodicesimo uomo. Scendiamo adesso in Lega Pro per parlare del Teramo. Dopo l'attaccante forte il Teramo ha praticamente definito l'arrivo del centrocampista trentenne Cruciani dal Benevento. Ieri la presentazione di Forte a Teramo. Andiamo a vedere insieme il servizio. Come la società che ha bisogno, come diceva il Presidente, ha bisogno di riaccendere la miccia della bomba che poi esplode da un momento all'altro perché siamo tutti quanti, sia io che la piazza, la squadra e il mister, una bomba pronta a esplodere perché abbiamo tutti quanti voglia di riscatto. Francesco Forte dalla Cremonesi a Teramo passando solo per un attimo per l'Inter con la speranza via Teramo magari di tornarci. Sicuramente io non nascondo di essere ambizioso. Ovviamente è un sogno però penso che con il lavoro, con l'impegno, soprattutto nei momenti difficili non mollare mai. Cercare sempre di dare qualcosa in più perché nei momenti difficili bisogna dare qualcosa in più che manca evidentemente perché altrimenti ci sarebbe stato un momento difficile. Quindi bisogna reagire. Io sono pronto a mettermi in gioco e a far vedere quanta voglia ho io di dimostrare il mio valore. Il presidente Campitelli ha detto Forte è sempre stato il nostro primo obiettivo per i gol che sono mancati fino ad adesso al Teramo. Questo pesa o dà più stimoli? Ma io penso che come ha detto il presidente l'attaccante comunque deve subire certe pressioni soprattutto anche deve prendersi le proprie responsabilità. Ovviamente io sono qui a disposizione della squadra e del mister. Quando verrò chiamato in causa darò il mio contributo e ovviamente il mio mestiere è fare gol. Quindi bisogna buttarla dentro. Sabato L'Ancona potevi essere dall'altra parte. La fine l'ha sputata il Teramo. Sarà una partita. Si riparte col girone di ritorno. Hai detto sono qui per disputare 17 finali. Sì, assolutamente. Sono 17 battaglie perché purtroppo con la penalizzazione la posizione è quella che è. Quindi sappiamo i ragazzi li ho visti molto carichi. Quindi sono molto contento di aver trovato questo gruppo. Ovviamente la partita con l'Ancona è una tappa fondamentale perché come ho detto tutte le partite qui alla fine saranno fondamentali ma perché abbiamo secondo me le capacità di vincerle tutte quante. Restiamo ancora in Lega Pro dopo l'intervista di Jacopo Forcella a Francesco Forte. Adesso ci occupiamo dell'Aquila Calcio. Questa mattina la dirigenza Rosso-Blu ha tenuto a rapporto la squadra al campo dell'Acqua Santa per incoraggiare i giocatori in vista del girone di ritorno che si preannuncia difficile perché all'orizzonte c'è la sentenza sul calcio scommesse su Dirti Soccer. La Procura federale ha chiesto 31 punti di penalizzazione per l'Aquila. Ovviamente bisognerà attendere il verdetto di primo grado per capire quale sarà l'entità della penalizzazione per la squadra aquilana. Intanto andiamo a vedere insieme il servizio di Gianmarco Menga. A volte è nelle difficoltà che si riesce a fare più di quanto si possa pensare. È questo il lat'motiv che questa mattina ha caratterizzato il discorso della dirigenza dell'Aquila Calcio alla squadra. Il presidente Corrado Chiodi, il suo vice Massimo Mancini e il tecnico Carlo Perrone hanno parlato ai giocatori prima dell'allenamento sul campo di Acqua Santa, dando loro coraggio e motivazioni in attesa della sentenza della giustizia sportiva che all'inizio della prossima settimana decreterà i punti di penalizzazione in classifica per l'inchiesta sul calcio scommesse. In sostanza, uniti e compatti dal primo all'ultimo si può compiere l'impresa di salvare la Lega Pro a dispetto dei punti di penalità. Una missione solo per uomini veri, come ribadito poi dal capitano dell'Aquila Claudio De Sosa, che dopo gli interventi di tecnico e società ha preso la parola per promettere a nome dei compagni il massimo impegno in campo e per cercare di tenere lontane le vicende giudiziarie. Intanto, passando al mercato, si aspetterà la prossima settimana per ufficializzare l'arrivo di Emanuele Pesoli. Il motivo del ritardo? Un piccolo problema muscolare al polpaccio che permetterà all'ex difensore del Pescara di essere disponibile non prima di una decina di giorni. Da segnalare inoltre la presenza da ieri di un nuovo difensore. Si tratta del giovane croato classe 1997 Tony Farias, che questa mattina ha conosciuto personalmente il presidente Corrado Chiodi e il suo vice Massimo Mancini. Altro ingaggio dell'Aquila Calcio, l'ex estremo difensore del Forlì Scotti. Questo è il primo colpo di mercato dell'Aquila. Le sue impressioni sempre al microfono di Gianmarco Menga. La porta dell'Aquila Calcio potrebbe avere presto un nuovo padrone. Nel pomeriggio di ieri il club rosso-blu ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto portiere Francesco Scotti la scorsa stagione in forza al Forlì. Negli ultimi sei mesi si è tenuto in costante allenamento grazie all'aiuto dell'amico Giancarlo Bellocci, che fu il preparatore dell'attuale portiere dell'Inter Samira Andanovic, ai tempi del Rimini. Ma chi è Francesco Scotti? Di sicuro non l'ultimo arrivato. In carriera vanta oltre 300 presenze in Serie C, che sfiorano le 400 considerando anche le gare di Coppa Italia e gli spareggi promozione. L'annata più prestigiosa resta quella con la maia della Florenzia Viola nel 2002-2003, con cui vinse il campionato di Serie C2 grazie a compagni di squadra del calibro di Riganò, Di Livio, Quagliarella ed Evacuo. Al di là dell'esperienza in Viola, però, il maestro di Scotti risale ai tempi della sua militanza nelle giovanili della Lazio. Si è Angelo Peruzzi, con lui ho avuto il grande onore di allenarmi un anno. È stato un anno importante per me perché ho avuto la possibilità di essere nel giro della prima squadra e anche la fortuna di vincere il campionato di primavera. Ora, dopo sei mesi senza giocare match ufficiali, la chiamata dell'Aquila può diventare l'occasione del rilancio. Ancora sto bene fisicamente, quindi spero di giocare ancora qualche anno a questi livelli. Sì, per me saranno sei mesi di rilancio perché vengo da quattro mesi di inattività, quindi sto bene fisicamente, quindi è un'esperienza che prendo grande entusiasmo. Perché l'Aquila? Perché? Perché è un'occasione per dimostrare che ancora sto bene e è una sfida contro una penalizzazione che è importante. All'Aquila, tra l'altro, ritroverai un tuo grande amico, Manuel Mancini. Da quando nasce questa amicizia? Noi praticamente siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tutto il settore giovanile con la Lazio e praticamente siamo come fratelli e per me è un piacere ritrovarlo. È tutto per questa prima edizione del TG6. Tra poco, invece, le 14.45 ci sarà il TG6 l'Aquila, mentre il TG6 Abruzzo torna per la seconda edizione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Grazie per la visione!